In compagnia di Ashraf Hakimi, Ashraf obiettivo raggiunto, qualificazione, quarti di Coppa Italia contro il Milan. Tra l'altro il tuo ingresso ha dato un scossone alla partita. Che tipo di gara è stata? Sì, teniamo un obiettivo che era classificarnos, era il nostro principale obiettivo passare alla prossima ronda e la verità è che siamo molto contenti di averlo potuto fare. L'obiettivo era chiaramente qualificarci e siamo molto contenti di essere riusciti a farlo. La Fiorentina è stata un avversario tosto e sono state spese tante energie domenica. C'è una gara molto delicata contro la Juventus. Come ci arrivate? Bueno, sabíamos che era un partito difficile, come sabemos también che era un partito di vita-muerte, podíamos jugar 90 minutos o más, como ha sucedido. Hemos jugado 120 minutos, pero estamos preparados para ellos. Ahora toca descansar, recuperar bien y preparar el partito del domingo, que es una partida bonita y vamos a salir a ganarla. Sapevamo che la gara era difficile, sapevamo che dovevamo affrontarla bene, una cuestión quasi di vieto di morte, 90 minuti di più recupero, sapevamo che poteva andare così ed è andata così. Ora ci tocca recuperare qualche energia, prepariamo il bene la partita contro la Juve e speriamo di poter vincere. Ai quarti ci sarà il Milan. Che sapore ha questa partita? Bueno, va a ser una partida difficile, ellos están en un nivel muy bien, muy bueno y bueno, vamos a hacer también una partida difícil de jugar porque también es vida-muerte y vamos a salir también a ganar porque nuestro objetivo es estar en la final y poder ganar este título con el club. Allora, sicuramente ci aspetta una partita difficile, il Milan sta bene, è in salute e anche in questo caso può diventare una questione di vita o di morte ma il nostro obiettivo non è soltanto vincere contro il Milan ma arrivare alla fine di questa competizione e vincere con questo club. L'ultima, questo è stato per Vidale il primo gol in Maglia Inter, immagino abbia festeggiato anche tu visto che avete un rapporto molto speciale voi due. Sì, la verdad che estoy contento por el gol de Vidale, es un jugador muy importante para nosotros espero que este sea el primer gol de muchos que le van a llegar para ayudarnos y estoy muy contento por el gol sobre todo porque ha recibido algunas criticas pero bueno, sé que es un jugador muy fuerte y esto le va a ayudar. Sono molto contento ovviamente per il gol di Vidale, è stato importante per noi anche dal punto di vista della qualificazione spero sia soltanto il primo di tanti, è molto forte, purtroppo Vidale ultimamente ha ricevuto qualche critica ma lui sa bene quello che bisogna fare in campo e oggi l'ha dimostrato, grazie. Grazie mille a te. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvides di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non forgets di subscribe to our YouTube channel.